Salve a tutti, oggi vedremo come collegare il vostro account Paypal al vostro account ebay Questa è un'operazione fondamentale per fare acquisti e vendita Infatti per acquistare ma soprattutto per vendere su ebay è necessario avere un conto Paypal E che questo sia collegato al vostro account ebay Vediamo come fare, andiamo sul mio ebay Dopodiché andiamo qui su account E come vedete subito all'inizio vi si apre Hai già collegato un conto, vuoi collegare un conto Scusate, sei già iscritto, quindi hai già un conto esistente di Paypal Questa opzione qui Oppure non sei ancora iscritto, quindi in questo caso devi crearti un account Paypal E collegarlo all'account ebay Prima di fare questa operazione chiaramente Io vi consiglio se non siete ancora iscritti a Paypal di non farlo di qui Ma di farlo direttamente dal sito di Paypal Quindi andate sul sito di Paypal Andate qui su registra Registrati, fate tutte le operazioni necessarie Dopo tornate e scegliete l'opzione numero 2 Ovvero quella collega un conto Paypal che voi avete già Quindi proviamo Una volta fatto l'accesso Al vostro account Paypal Quindi una volta che avete inserito password e di mail Il vostro account Paypal è collegato al vostro account ebay Quindi siate pronti per fare acquisti e vendite su ebay Quindi per questo video è tutto e alla prossima